Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come avete visto dal titolo, oggi vi parlo di Kinguin. Vi dirò cos'è Kinguin. Proveremo a cercare un gioco insieme, faremo un confronto di prezzi, tra acquistare il gioco su Steam, per esempio, piuttosto che appunto su Kinguin, e poi fare un acquisto in modo da farvi vedere come poi viene generata la chiave che andrò ad utilizzare. Cominciamo dalla spiegazione base. Kinguin è un sito, una piattaforma che vi permette di acquistare dei giochi scontati. Gli sconti cambiano di giorno in giorno, quindi se avete un gioco in particolare che volete acquistare scontato, ogni tanto vi consiglio di andare a controllare il sito. Altrimenti, come spesso faccio io, quando avete voglia di un gioco nuovo, andate a vedere tra gli sconti più interessanti e acquistate il vostro gioco nuovo magari a pochi euro. Ma proviamolo insieme. Ecco qui. Allora, siamo come vedete sulla pagina di Kinguin, il sito in italiano per cui è facilmente navigabile. Per poter accedere agli acquisti, naturalmente è necessario fare un account, quindi potete accedere con Facebook, con Google, con Twitch, con Paypal, con Steam, oppure crearvi un account con il vostro indirizzo email. Una volta autenticati vi troverete in questa schermata, dove avete il vostro carrello qua in alto e naturalmente il vostro account dove potete trovare la vostra lista dei desideri, io in questo momento non ho messo nulla, l'assistenza clienti, gli ordini fatti e quant'altro. Ma come facciamo a cercare un gioco? Allora, ci sono due modi. Se sapete già che gioco cercare, vi posizionate nella barra di ricerca qui in alto e cercate il vostro gioco. Per esempio, avete visto che sul canale sto portando Subnautica Velosiro, quindi potremmo cercarlo. Ok, come vedete il sito mi dà già qualche anteprima dei prodotti disponibili, però vi faccio vedere meglio. Se tra queste anteprime c'è già quello che volete, allora potete direttamente cliccarlo. Altrimenti, date l'invio e guardate le opzioni che ci sono acquistabili. Di fianco ad ogni opzione c'è lo sconto che è attualmente in vigore. Attenzione in questa fase perché, come vedete, ci sono varie alternative di acquisto. Non tutte sono uguali e non tutte vanno bene per voi. Ve le spiego un attimino. Se volete acquistare il gioco da poter giocare su Steam, per esempio, allora la vostra scelta sarà la prima. Come vedete il gioco è in sconto al 62% e costa 11,27€. Se volete una chiave utilizzabile soltanto a un'Europa, acquistate la versione EU. Esiste anche la versione AR per Xbox. Onestamente non ho Xbox, quindi non so cosa significhi, però prima di acquistarlo eventualmente informatevi. c'è naturalmente quella per la Nintendo Switch, ma ci sono due opzioni di acquisto alle quali vi suggerisco di fare attenzione. Uno è l'account, che è questo, e l'altro il gift, il regalo. In questo caso vedete che lo sconto è più ampio, è più succulento, diciamo così, però se acquistate l'account non vi verrà venduto il gioco intero, o meglio sì, ma vi verrà venduto un account nuovo di Steam, quindi non potrete utilizzare il vostro account regolare per giocare a questo gioco, e quindi l'unico modo per giocare a questo gioco sarà utilizzare questo nuovo account generato da questo acquisto e giocare attraverso questo account. Se la cosa non vi crea disturbo, allora proseguite con l'acquisto. Se invece volete utilizzare il vostro solito account di Steam, non acquistate questo qui, perché altrimenti vi genererà un nuovo account, e solo con il nuovo account potrete giocare a questo gioco. Esiste poi anche la versione gift, che in questa opzione di acquisto non c'è, ma su altri giochi l'ho visto. Praticamente esiste l'opzione regalo, anche in quel caso sono opzioni di acquisto sempre molto scontate, molto più della versione normale. Però questi sono regali, vuol dire che se voi acquistate quella chiave di gioco vi sarà impossibile utilizzarla sul vostro account, sarete obbligati a regalarla a qualcun altro. Quindi, a meno che non sia vostra intenzione appunto regalarla a qualcuno, e in quel caso potrete utilizzare l'opzione di acquisto più vantaggiosa, se invece volete acquistare il gioco per voi stessi, vi sconsiglio di farlo. L'unica opzione acquistabile è appunto la CDK. Ecco, vi ho cercato Project Zomboid, che è un altro dei giochi che sto portando sul mio canale, e come vedete avete l'opzione gift, che è appunto l'opzione regalo. L'opzione regalo Europa, quindi in questo caso questo gioco sarà utilizzabile e spendibile soltanto in Europa. L'account, quindi anche in questo caso è molto scontato, viene 1,43€ l'account, peccato che acquistando questa versione sarete obbligati ad utilizzarlo su un account diverso. L'opzione regalo è appunto a 5,83€. In questo caso la versione intera, quindi quello che normalmente dovreste acquistare, è a prezzo pieno, 28,09€. Quindi in questo momento diciamo che se volete acquistare Project Zomboid per voi stessi, non è il momento migliore. Ciò non toglie, naturalmente che se avete un buon amico che vuole farvi un regalo, può acquistarlo lui per voi, e in quel caso lo potrà pagare 5,83€. Come vedete l'opzione regalo viene venduta a 5,83€. In quel caso dovrà acquistarlo lui e dovrà comunicare a voi la chiave, e allora potete giocarci. Ora vi mostro però un altro metodo per cercare dei giochi nuovi. Magari non sapete bene a cosa giocare, e volete vedere soltanto quelle che costano meno sostanzialmente. Allora, scorrendo la pagina vedrete che c'è l'elenco di tutti i giochi disponibili praticamente. Ci sono le novità, ci sono i preordini, i giochi inferiori a 20€ e i giochi inferiori a 10€. Per esempio, io mi sono concentrata sui giochi inferiori a 10€, e vedete che trovate appunto 7 Days to Die, per esempio, è in sconto, però ce l'ho già, quindi non posso mostrarvi come acquistarlo. Scorrendo, scorrendo, ho trovato questo gioco. Eccolo qua. Generation Zero è la chiave di Steam, quindi vado a cliccarci. Come vedete è in vendita a 3,30€, e mi sono un po' informata su che tipo di gioco è. Praticamente è un survival sparatutto, ambientato negli anni 80. In sostanza, il protagonista è un giovane adolescente che è partito per una gita, mi sembra. Nel tornare a casa si accorge che praticamente il mondo che ha lasciato non esiste più, è stato invaso da delle macchine che naturalmente dovrà combattere. Siccome è un gioco che mi incuriosisce e il prezzo è decisamente allettante, l'ho acquisto con voi. Vi faccio vedere come si fa. Per dovere di cronaca, andiamo a vedere quanto costa su Steam in questo momento. Eccoci ragazzi, sulla pagina del gioco su Steam. Come vedete è in vendita a 24,99€, per cui il prezzo pieno di questo gioco è 24,99€. Ci dice che Generation Zero è uscito nel 2019, è uno sparatutto stealth d'azione in cui affronti dei tai nemici meccanici in guerriglia. Esplora una vasta mappa open world ispirata alla Svezia, della guerra fredda. Prendi parte alla resistenza in solitaria o in compagnia, fino a tre avici in co-op. Multigiocatori, sopravvivenza, avventura, mondo aperto. E robot, naturalmente, da combattere. Ovviamente ci propone anche il pacchetto di tutti le varie, il pacchetto bundle tutto completo a 69,38€. Ma noi torniamo alla nostra pagina di Kinguin perché lo andremo ad acquistare a 3,30€. Decido di acquistarlo con PayPal perché è la mia metodologia di acquisto preferita. Quindi vado a cliccarci. Ok, ho compilato i miei dati che naturalmente è oscurato per ovvie ragioni e mi dà il totale di questo acquisto che sarà quindi 3,30€ più 0,87 centesimi per un totale di 4,17€. Mi chiede di salvare i dettagli del pagamento per il futuro, per rendere le cose più veloci prossimamente e vado con il pagamento su PayPal. Benissimo ragazzi, fatto! Come vedete la cosa è in corso, la consegna è in corso, il tempo stimato è 20 minuti. Ma come vedete ci ho messo veramente tra secondi ed è tutto pronto. Quindi adesso posso andare a riscattare il mio acquisto, quindi clicco qui su claim e in questa fase mi dice sei sicuro che stai che stai reclamando questo gioco? Quindi ci dà la possibilità di di pensarci. Perché? Perché se in questa fase io ho detto cavolo ho sbagliato, ho cambiato idea, non voglio più acquistarlo, io posso chiedere il rimborso e cancellare la cosa. Se invece io riscatto questo gioco per Kinguin non sarà più rimborsabile. Quindi mi raccomando questo passaggio. Io in questo caso invece confermo l'acquisto. Benissimo! Voi non lo vedrete perché lo cancellerò, però questa è la mia cavia di gioco. Io la vado a copiare e incollare. La copio qua. Ok, questo è il mio account di Steam quindi vado ad aggiungere un gioco attraverso questo tasto qui in basso a sinistra e mi chiede aggiungi un gioco non di Steam, attiva un prodotto su Steam oppure cerca nuovi giochi. Io avendo già la chiave seleziono attiva un prodotto su Steam. Qui mi chiede di inserire la chiave che io ho copiato di là e qui da incollo e mi dà la conferma. Quindi Generation Zero è stato attivato con successo sul mio account. Come vedete dalla mia libreria il gioco è pronto per essere installato. Quindi mi basterà cliccare su installa e comincerà il download. Tutto qui ragazzi è davvero molto semplice e soprattutto molto vantaggioso perché un gioco a 3 euro è raro trovarlo. È talmente vantaggioso che naturalmente lo uso sempre per i miei acquisti. Ogni volta che devo acquistare un gioco nuovo sia che sappia di cosa si tratta sia che non sappia insomma vado e acquisto su Kinguin. È davvero vantaggiosissimo. Se volete approfittarne anche voi vi lascio il link in descrizione. Sono affiliata con loro quindi se doveste decidere di acquistare attraverso il link che vi lascio mi verrà riconosciuto a una piccola percentuale che naturalmente mi sarà utile per generare nuovi contenuti in futuro. Se ti è piaciuto questo video ti invito ad iscriverti al canale in modo da non perderti i contenuti futuri. In più credo che potrebbe interessarti conoscere un servizio che ti permetterà di giocare ai tuoi giochi preferiti attraverso il browser quindi in cloud. Se vuoi scoprire come fare guarda questo video. Alla prossima!